La Giunta regionale ha declassato l'ospedale di Sant'Omero, ha tagliato due primari su quattro, due unità operative complesse su quattro. Davvero uno schiaffo alla sanità della Val Vibrata, dei 12 comuni, 85 mila abitanti. Faremo un appello a tutte le forze politiche, ai sindacati, ai sindaci in maniera particolare affinché questo taglio si possa recuperare. Oltre al taglio su Sant'Omero e quindi sulla Val Vibrata non è previsto il Deo di secondo livello su Teramo e abbiamo visto le tante polemiche per la costruzione del nuovo ospedale. Marsilio e Laverì hanno fallito dal punto di vista della programmazione e gestione della sanità in Abruzzo, in maniera particolare in provincia di Teramo.